L'ultimo report del Ministero della Sanità parla chiaro, più di 8 milioni di italiani sopra i 12 anni non sono ancora vaccinati. Da venerdì l'obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro potrebbe portare, secondo le stime della Fondazione Gimbe, circa 4 milioni di lavoratori a doversi attrezzare con i tamponi. Calcolando due o tre tamponi a settimana si arriverebbe tra gli 8 e i 12 milioni di tamponi settimanali e considerando almeno 15 euro a tampone con il prezzo calvirato si arriva ad una spesa davvero considerevole. Per sottoporre a tre tamponi settimanali le stesse persone il costo per la sanità pubblica sarebbe invece di 180 milioni di euro la settimana, assolutamente insostenibile per il Servizio Sanitario Nazionale.